Investe con l'auto un 17enne a bordo di uno scooter e poi si dà alla fuga. È successo poco prima della mezzanotte in via Galileo Galilei a Fano. Due ragazze moldave, testimoni dell'incidente, hanno chiamato al 112 dando indicazioni esatte sulla dinamica e fornendo il numero di targa del fuggitivo. Nel frattempo il giovane ferito è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso del Santa Croce. Partite le ricerche, i carabinieri hanno raggiunto l'abitazione del proprietario della vettura e sotto casa c'era parcheggiata proprio l'auto incidentata. Aveva delle ammaccature al paraurti e la targa parzialmente staccata. I militari poi hanno suonato il campanello e dopo innumerevoli tentativi l'uomo ha aperto la porta insultando i carabinieri. Era fuori controllo per abuso di alcol. Si tratta di un 35enne di Sant'Orso, già sorpreso in passato alla guida sotto effetto di droga o in stato di ebrezza e con pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per violenza e resistenza pubblico ufficiale, nonché deferito in stato di libertà per guida sotto effetto dell'alcol e omissioni di soccorso. Il giudice ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà al 35enne in attesa del processo. D'altra parte il padre del giovane di 17 anni ha ringraziato le due moldave che dopo aver soccorso ed assistito il figlio fino all'arrivo dell'ambulanza hanno fornito preziose indicazioni dando un contributo fondamentale per individuare il colpevole.